Sono tutti presenti all'appello i 115 cardinali elettori. In Vaticano è arrivato anche l'ultimo atteso dal Vietnam, ora la lista è completa, resta da attendere la data d'inizio del conclave. Padre Federico Lombardi in conferenza stampa dopo la congregazione generale del mattino ha annunciato che in serata il nodo sarà sciolto. Quindi se mi chiedete quale può essere questo giorno che viene deciso, io ritengo che sia nei primi giorni della settimana prossima. Quindi non decidono certamente di cominciare domani né domenica, ma possono decidere lunedì, martedì, mercoledì. È possibile che i cardinali riuniti possano convocare le congregazioni anche lunedì. Infatti molti cardinali, soprattutto statunitensi e tedeschi, hanno chiesto ulteriori sedute per preparare l'agenda del futuro Papa.